il giro della scuola e anche questo 32esimo giro ha iniziato la sua storia quest'anno con partenza meridionale per vivificarne l'interesse ventilata dal mare fino a reitano la carolana ora affronta il cuore dell'isola nella tappa che deve portarla a catania antipasto delle future arrampicate un primo traguardo di montagna che si stende sulla strada poco prima dell'arrivo dei concorrenti lo vince fazio era il colle del contrasto ma non si può dire che fazio abbia superato tutti i contrasti il cliemontese carrea gli sta al fianco guizza con lui sullo stadio di catania ma fazio è aizzato dall'aria di casa e in volada diventa per primo maglia rosa